belle gioie eccoci qui nuovo video carrellata veloce questa settimana abbiamo avuto due scarichi ben due avete trovato postate le foto con gli articoli nuovi sulle nostre pagine ma ragazze tra vetrine scarico e vendita ovviamente e online e per quanto riguarda il negozio non sono riuscita a trovare un secondo di tempo per far video ma ieri abbiamo avuto i riassortimenti già sui nuovi arrivi quindi sono pronta oggi con il negozio pieno con tutti quanti gli articoli che trovate voi postate sulle nostre pagine rgn punto piano di facebook e rgn lovers di instagram facebook chiudiamo la parentesi velocissima perché ragazze guardate che tributio di colori chiari sono arrivate in un sacco di modellini un sacco di colori freschi e frizzanti pronte perché andiamo tutte verso la primavera proprio col cuore che ci tira io spero vivamente che arrivi presto ragazze non ce la faccio più con questo inverno con questo freddo sono pronta e vi faccio vedere subito subito gli articoli che ci sono arrivati cominciamo come al solito dagli accessori cominciamo dagli zainetti e le borse che ci sono arrivate ragazze udite udite allora sempre in promo per quanto riguarda tutte quante le borse della misura grande che abbiamo della nostra collezione sempre promo 12 euro e 99 una per l'altra delizia zainetto pieno di tasche pieno di borchie borchettine argentate come le zip pieno veramente questo di tasche chissà se questa è una tasca no questa non è una tasca è l'unica ma le altre tutte quante sì 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 allora quindi abbiamo una taschina un'altra tasca qui un'altra tasca interna a questa gigantesca quindi veramente tribudio di tasche per questo zaino che ha gli spallacci che si regolano come al solito guardate l'ho lasciato aperto lo chiudiamo magari e mi piace tantissimo come mi piace tantissimo l'altra versione che è quella più borchiata ragazze sempre borchie sull'argento quindi di varie grandezze che vanno a coprire e la patta della tasca eccola qui sarà po con la zip e zippona grande questa qui anche due taschine laterali magari per mettere i fazzoletti la mucchina non lo so vedete voi e pure l'ombrello volendo se è quelli piccolini che si infilano laterali se dovrebbe entrare sì sì io riesco a far entrare tutto dappertutto ragazzi per quanto riguarda le borse mary poppins proprio wow prende appunto da me altro modello che ci è arrivato di borsa delizia perché è una borsa senza aperture quindi non ha nella zip nei bottoni che vanno a chiudere ma all'interno un'altra mega pochettona dove potete mettere tutto quanto io ho preso quest'anno una di queste versioni di borse qui con la pochettona gigantesca dentro e mi ci trovo benissimo sarà perché poi laterale oltre alla pochettona grande che sfrutto sfrutto anche lo spazio mettendo poi magari ombrello altre pochette libri di tutto e di più 12 euro 99 anche questo modellino qui come questa qui che ragazze io non so voi ma io me ne sono innamorata adoro le borse bianche guardate che splendore spallacci comodissimi borsa grande con una catena argentato sul nero quindi facilissima da abbinare zippona grande per chiudere la tasca di dietro zippona gigantesca che va aprire tutta quanta la parte interna guardate la lavorazione carinissima tutta quanto stampata in tessuto quindi questa qui pure è ultra comoda e poi mi piace da impazzire tanto io adoro le borse bianche altro modellino sempre con le porchettine che ci è arrivato anche questo 12 euro e 99 ragazze delizia fanno molto questi effetti a cartella quest'anno non so se ci avete fatto caso io sì zip grande che chiude la tasca di dietro il fermino che è d'acciaio vedete eccolo qui per aprirla e anche questa ha la zip all'interno cosa che io adoro perché se no con le patte rischio sempre di perdermi qualcosa invece la zip che mi chiude la borsa mi piace molto abbiamo anche la tracolla all'interno ottima anche la grandezza di questa borsetta qui ragazze 12 euro e 99 delizia 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 cominciamo subito con l'abbigliamento ragazze perché veramente tributio di articoli nuovi che mi sono arrivati e cominciamo subito subito con tantissimi articoli o in saldo o in promo quindi occhi aperti promo 14 euro e 99 per il maglioncino multicolor sono tutti colori nuovi ragazze quindi occhi aperti maglioncino multicolor disponibile nella variante con panna glicine celeste giallo e panna di nuovo sotto con la variante con il rosa con la variante con celeste grigio e panna e rosa parliamo di una taglia unica ottima vestibilità collo a v vediamolo in questo colore qui taglia unica ottima vestibilità colla a v che non rimane assolutamente scollato perché arriva proprio sopra il senno mi piace molto la lavorazione guardate traforatina che ritroviamo su ambe due le spalle e ritroviamo anche sul fianco lavorazione tutta quanta dritto e rovescio credo scusate l'ignoranza lo sapete a maglia non me la cavo tantissimo un leggerissimo cannolè che rimane sul polsino e va a chiudere la parte di sotto del maglione anche se non stringe assolutamente questo su un jeans ragazze su un pantalone ma anche su un pantalone della tuta questo lo mettiamo veramente su tutto la lunghezza è quella giusta perché arriva sul fianco praticamente copre metà ciabette quindi comodo morbido da poter sblusare anche leggermente se vi piace l'effetto un pochino più soffice morbido morbido ottima vestibilità questo anche per chi ha il seno un po più grande perché ovviamente avendo la lavorazione a filo grosso permette anche di essere un pochino più morbidino indossato altro articolo che ci è arrivato nuovo maxi maglia tessuto io lo chiamo morbidone perché è delizioso morbido morbido soffice soffice leggermente velo setto caldo il giusto ottima la vestibilità per quanto riguarda questa maglia che è un modello oversize leggermente piristrello alla manica che ha il giro manica molto molto basso rimane praticamente quasi all'attaccatura dell'avambraccio collo a giro disponibile nella colorazione celeste nella colorazione fucsia che ragazze è un incanto e nella colorazione nera che non manca mai taglia unica ottima la vestibilità per quanto riguarda questo modellino qui ottima la la vestibilità anche per quanto riguarda il collo perché come quella che indosso io possiamo portarla un pochino più scesa e comunque ragazze non vi stringe assolutamente al collo quindi state comodissime la lunghezza di questa maglia qui mi copre interamente le ciapette quindi è carina secondo me da mettere ovviamente con una bella cintura e sblusarla un pochino ma da lasciarla anche scesa su un leggings o su un pantaleggings per esempio avrei potuto abbinare al pantaleggings che porto io oggi indosso che è questo qui nuovo con l'effetto quadrettato bianco e nero micro quadrettino proprio quello regolare bianco e nero avrei potuto abbinare anche questa maxi maglia non magari ci resta e forse il pusca mi sarebbe piaciuto di più nero ci sta benissimo abbastanza scontato però insomma io oggi l'ho abbinata con il glicine e ci ho messo sotto una canottierina per acquistare un pochino più di lunghezza ma se ci avessi messo questa sarei stata tranquillamente bene senza dover mettere una canottierina un pochino più lunga che mi copriva le ciapette pantaleggings ragazze che oltre a vederlo indossato eccolo qui per quanto riguarda il punto vita mi arriva praticamente all'ombelico va a taglie disponibile quindi sm e l io ho preso una media quindi è vestibilità quella giusta perché vesto 42 è il pantalone ideale da portare e sotto una maxi maglia ma se avete anche un bel fisichetto insomma ci sta tutta quanto possiamo portarlo anche con una camicina magari un cardigan o perché no con un maglioncino di quelli corti mi piace la vestibilità che ha sull'elastico perché ha a una baschina di tre dita eccola qua con un elastico che ragazze ha una vestibilità eccezionale quello che rimane bello accostato ma non stringe e non tira fuori assolutamente il luffetto della pancia ottima la vestibilità essendo un pantaleggings non traspare rimane lungo e ovviamente come tutti i pantaleggings volendolo possiamo anche risvoltare nella parte di sotto questo qui scontato a un prezzo pazzesco allora volendo da abbinare a quel pantaleggings come vi stavo dicendo se ci volete mettere una cosettina un pochino più corta abbiamo anche la felpetta effetto pecorella ragazze guardate la lavorazione è soffice soffice morbida ovviamente nella parte interna rimane liscia quindi non vi da assolutamente noia e fastidio calda soffice deliziosa e nella colorazione jeans e nella colorazione nera che ci sono rimaste disponibili questa felpa qui ragazze sta in promo a 10 euro e 99 che dirvi che è il modello dell'anno quella che rimane corta a vita quindi è quella che arriva a toccare appena appena il passante del jeans o del pantalone che possiamo mettere su tutto guardate questa qui per esempio abbinata ad un jeans nero ragazze mi sono tornati di nuovo disponibili comunque i jeans neri quel modello push up quelli semi elasticizzati con una vestibilità ottima e guardate che abbinamento bello mi piace molto il contrasto del color denim con il nero ragazze adoro e poi 10 euro e 99 questa felpa qui è il top perché è caldissima comodissima e versatile come è comoda versatile ma è anche deliziosa sarà per la scritta sarà perché forse c'è un pochino ci sentiamo sempre così ragazze ho sempre ragione disponibile nella colorazione bianca nella colorazione nera nella colorazione rosa big bubble che amo nella colorazione grigia con la scritta fucsia taglia unica ottima vestibilità l'abbiamo messa addirittura in vetrina ragazze questa qui vi dico soltanto una cosa scontata 11 euro e 99 è un prezzaccio maglioncino caldo comodo e morbido il giusto lungo il giusto perché comunque mi arriva a coprire il passante del pantalone quindi non è nemmeno corto la taglia è unica la vestibilità è quella buona perché comunque lo riusciamo ad abbinare anche se abbiamo un seno un pochino più grande anzi se legge pure meglio secondo me come si direbbe a roma collo con il cannolè che rimane a lupetto a lupetto ragazze è così cioè che rimane appoggiato proprio sulla prima parte del collo due dita non vi stringe assolutamente e non rimane assolutamente a collo alto ottima la vestibilità ottimo anche il tessuto la lanetta è quella bella calda a filo quindi troviamo sotto il cannolè che assolutamente non stringe che dirvi che ho sempre ragione forse mi servirebbe la magliettina non lo so comunque 11 euro e 99 scontato il maglioncino ho sempre ragione 11 euro e 99 scontato aspettate che abbiamo anche un'altra scritta disponibile oggi soltanto queste due colorazioni anche questa non è male ragazze io non sbaglio mai disponibile nella colorazione panna con la scritta fucsia disponibile nella colorazione big bubble con la scritta nera anche questa 11 euro e 99 anche questa la vestibilità è la stessa di quell'altra quindi taglia unica buona morbida comoda l'abbiamo messa in vetrina ragazze è fantastica altra news che ci è arrivata ragazze allora sembra una connellina sembra una connellina anche perché ha questo spacchettino qui ragazzi ma realtà tata son pantaloncini l'abbiamo vista l'avete vista in giro io l'ho vista l'abbiamo vista ottima la vestibilità deliziosa l'effetto pantaloncino in realtà che sembra una gonna ottimo anche il tessuto che è lo stesso del pantalone che porto io oggi quindi un quadrettato bianco e nero che abbiniamo un po su tutto guardate che carino questo effetto con questa ci sarebbe deliziosamente bene guardate che carino così tre gioli tre tre gioli ragazzi mi piace tanto 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 pantaloncino vita medio alta a taglie ottima vestibilità e poi altro articolo nuovo che ci è arrivato io le amo ragazze me ne sono provata una me ne sono innamorata devo capire che colore prenderla anche se questo fucsia tutto sommato non mi dispiace perché poi di felpe nere ne ho diverse però il nero è il nero ragazze è bellissima felpa cappuccio maglia manica palloncino medio corta ma nemmeno più di tanto questa comunque mi supera il passante del jeans quindi mi rimane a ciappetta di fuori ma non è corta con la pancia di fuori quindi mi piace anche questa di cosa mi piace anche il fatto che la vestibilità di questa sia un pochino più ampio quindi è veramente comoda e sotto ci posso poi alla fine abbinare qualsiasi cosa anche la magliettina una t shirt un pochino più morbida taglia unica come vi dicevo disponibile nella colorazione bianca nella colorazione nera nella colorazione rosa big bubble è una felpa felpata e volendo adesso vi faccio vedere una cosa strepitosa allora felpa felpata felpato il giusto né troppo né troppo poco ottimo il cotone perché è quello veramente buono che non tira fuori i pallini che non si rovina anche se le lavate in lavatrice il consiglio che vi do sempre lavate tutto a zero gradi i colorati per quanto riguarda il bianco io vi dico li lavo a acqua calda 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 guardate un po volendo potremmo fare il completo con il pantalone che sempre oma 13 euro e 99 il modello palloncino che abbiamo disponibile nella colorazione nera nella colorazione bianca dove rosa dove ho messo rosa eccolo qua nella colorazione rosa big bubble proprio come la felpa ovviamente il pantaloncino ce l'ho disponibile anche in altre colorazioni spero che mi rientri anche la felpa di queste colorazioni ragazze disponibile in grigio disponibile anche nella colorazione celeste comunque per fare un completo adesso abbiamo disponibile all'istante la versione nera la versione panna la versione rosa big bubble e ragazze è bellissimo anzi fate una cosa andate a vedere sulle nostre pagine rgn lovers o rgn punto fiano che trovate su facebook e rgn lovers la trovate pure su instagram andate a vedere perché ho fatto un post con queste tre felpe e questi tre pantaloni messi a completo ed è piaciuto tantissimo fatemi sapere se vi piace allora per quanto riguarda il pantalone eccomi qui ritorno pantalone medio alto di vita con un elastico comodissimo taglia unica tasca a destra e a sinistra nella parte di sotto troviamo il polsino il modello del pantalone è leggermente a palloncino per quanto riguarda la versione nera della felpa possiamo però abbinarla anche al pantalone un pochino più lineare questo modellino qui quindi scende un pochino più dritto sulla gamba che abbiamo disponibile sempre in promo a 13 euro e 99 e sempre in tessuto felpato quindi ottima la vestibilità da portare subito sempre con l'elastico in vita con l'elastico sotto disponibile nella colorazione nera e nella colorazione grigia quindi ragazze ripudio di pantaloni della tuta come mi sono arrivati i jeans belli 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 da abbinare su tutto 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 è un jeans semi elasticizzato vita alta stretto sotto e anzi no semi elasticizzato elasticizzatissimo per quanto riguarda questo modellino qui ragazze disponibile dalla 36 fino a una 48 abbondante guardate quanto è bello elasticizzato tanto tanto leggermente sfumato appena appena ma nemmeno più di tanto modello push up come al solito ragazze questo mi piace tanto rimane vistosamente alto di vita cioè mi arriva a coprire interamente l'ombelico quindi lo possiamo abbinare tranquillamente anche ad un maglioncino un pochino più cortino ragazze guardate che carino verde e blu jeans mi piace da impazzire questo modello qui è disponibile come vi dicevo tutte quante le taglie e poi vi faccio vedere sempre per quanto riguarda il jeans anche questo modellino qui ragazze vita medio alta anche per questo modellino qui non vistosamente come quella perché comunque arriva a spiorarmi l'ombelico ottima la vestibilità disponibile dalla 36 fino a una 48 anche questo qui è elasticizzatissimo ragazze anche questo qui ovviamente essendo elasticizzatissimo va a stringersi sotto questo secondo me è delizioso anche da mettere con un bel risvoltino adoro il chiaro adoro l'estate adoro i colori chiari guardate che carino l'effetto push up a questo sta benissimo indosso ottima la vestibilità e guardate che carino magari un abbinamento con jeans chiaro 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 maglioncino pelosetto che c'è ritornato di nuovo disponibile con la versione collo av questa volta ragazze taglia unica ottima vestibilità lo sapete io questi li amo perché perché sono fini perché sono sagomati ma non stretti assolutamente perché mi riscaldano tantissimo oppure essendo leggeri di peso e leggeri come sensazione assolutamente non stringe non da fastidio lo abbinerei tranquillamente sul jeans e magari sopra ci andiamo a mettere la camicina di flanellona che mi è rientrata di nuovo disponibile sempre in promo 19 euro e 99 disponibile nella colorazione rosa che è bellissima ragazze nella colorazione nera che io amo e mi sono anche presa nella colorazione jeans parliamo del modellino corto parliamo sempre di quella in flanella bella pesantina bella calda che adesso sfruttate tranquillamente come giacca quindi ci andate poi a mettere sopra il piumino o il cappotto in base a quanto sentite freddo e che comunque da marzo in poi secondo me questa ve la sfruttate benissimo come se fosse un giacchettino quindi poi in sostituzione di un giubbino di jeans quando andiamo a togliere il piumino secondo me questa con una bella sciarpa può essere portata tranquillamente c'è anche chi non soffre tanto il freddo e già la porta così ragazze non è il mio caso lo sapete io muoio di freddo comunque ecco questo è quanto il maglioncino peloso che vi ho fatto vedere ragazze guardate mi è rientrato di nuovo disponibile nella colorazione royal che è bellissima nella colorazione rosa nella colorazione marroncino questo è un bel castano proprio castano ragazze e nella colorazione verde guardate che bello verde prato bella 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 taglia unica ottima vestibilità altra news ragazze ebbene siete innamorate e avete ragione sarà perché i cuoricini sarà perché proprio delizioso sarà perché la pesantezza è quella giusta perché il tessuto è quello di lana a filo ottima la vestibilità guardate che carino nei particolari allora aspetta vediamo se sul nero si vede un pochino di più l'effetto sfrangettato delizia la ritroviamo l'effetto sfrangettato anche sulla parte del cannolè del collo e anche nella parte del cannolè finale guardate che carino maglioncino con la v taglia unica con la vestibilità giusta quella morbida quella che mi supera tranquillamente il passante del jeans quella che mi copre metà cia pet quindi se ci vado poi a mettere magari una cannottina lunga ecco come sto io adesso ci avrei abbinato magari anche un pantaleggings tranquillamente disponibile nella colorazione nera con i cuori bianchi disponibile nella colorazione bianca con i cuori rossi ragazze questo modello qui è in promo a 14 euro e 99 quindi ottimo anche il prezzo come è ottimo preparatevi perché adesso un bel po di promo a partire da questa come è ottimo il prezzo del maglioncino corto effetto costoni grandi ma in realtà è tutto quanto tono su tono quindi le coste ci sono ma hanno un effetto tridimensionale col polsino che ritroviamo col cannolè e ritroviamo il cannolè anche nella parte di sotto maglioncino vistosamente corto perché questo mi arriva a coprire l'ombelico quindi direi da pantalone a vita alta da pantatuta a vita alta perché no ma anche da leggins a vita alta insomma qualsiasi cosa basta che sia a vita alta perché sento freddo solo a pensare che magari potreste andare ma voi che siete giovani se volete andate voi che potete comunque banda le ciance maglioncino corto collo alto ma collo alto ragazze morbidissimo si vede non è assolutamente di quello che va aderire il nostro ozza disponibile nella colorazione nera nella colorazione rosa nella colorazione odio scusate ho preso il telefono nella colorazione grigia nella colorazione celeste ragazze lo sapete quanto viene questo maglioncino promo 7 euro e 99 quindi se vi interessa se vi piace se dovete fare un regaletto se dovete fare un pezzerino se avete qualche ragazzetta che magari vuole una maglioncino corto 7 euro e 99 e questo è un ottima vestibilità ed è caldo 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 comodo comodo bello bello come calda calda comodo comodo bello bello è la pelliccia 3 quarti ragazze ci è arrivata finalmente la pelliccia 3 quarti disponibile nella colorazione nera nella colorazione panna quella con il cappuccio ve la faccio vedere indossata perché merita veramente zip che va a chiudere la pelliccia il che vuol dire che è comodissima pelliccia che ragazze è sempre la nostra quella bella bella soffice soffice con il pelo tutto bello compatto e veramente soffice calda disponibile bianco e nero come vi stavo dicendo disponibile a taglie sm e l è un 3 quarti con la zip dorata che comunque attraverso grazie ai veletti della pelliccia non dava nemmeno a dare fastidio se ne andate ad abbinare con l'argento il cappuccio ragazze tasca a destra tasca a sinistra in promo 29 euro e 99 ottima la vestibilità guardate che carina bianca e nera e così siamo a posto altro articolo che ci è arrivato disponibile io poi sto mettendo tutto quanto qua sul tavolo ma in realtà dopo vi devo far vedere altre due o tre cose che c'ho sul tavolo new entry ragazze disponibile nella colorazione grigia nella colorazione rosa big bubble nella colorazione glicine nella colorazione celeste c'era ovviamente anche nella colorazione bianca e nera ma sono andate via con un secondo e come dargli torto ragazzi stiamo parlando della maxi maglia che indosso io oggi modello comodissimo leggermente oversize quella con gli spacchetti il tessuto ragazze io adoro lo sapete vado molto a tessuti mi piacciono i modelli ma soprattutto i tessuti morbidissima la lanetta quella non troppo pesante aspetta vediamo prendiamone una sola va allora morbidissima grazie alla viscosa e al modal ha una finta cuciturina qui che parte praticamente e va su tutta la linea delizia con il collo a barchetta che possiamo regolare tranquillamente guardate quanto è morbido riesco tranquillamente a tirare giù la spalla la manica è lunga ragazze è bella lunga anche perché è un pochino più alta mi va a coprire anche l'orologio quindi vedete copre il polso tranquillamente la vestibilità c'era tutta è morbida la possiamo sblusare la possiamo lasciare sciolta così che scende giù spacchettina a destra spacchettina a sinistra leggermente l'effetto a pipistrello ma nemmeno più di tanto perché come potete ben vedere la manica praticamente fino a 4 cm dalla mia scella praticamente rimane bella aderente quindi anche con il cappottino non vi da assolutamente fastidio anche con un cappottino un pochino più aderente ottima la vestibilità mi piace da impazzire ragazze come mi piacciono da impazzire ragazze mi sono arrivate le maglie guardate rosa big bubble questo giallo che adoro che è un giallo limone un po' acerbo non è proprio giallo intensissimo grigio e nero ve la faccio vedere in giallo perché ragazze è uno dei miei colori è un giallo limone che amo ragazze questo è veramente delicatissimo colore dell'anno pantone giallo e grigio quindi teniamo sotto controllo anche questi due colori ed ecco qui che si presenta subito subito maglioncino basico misto viscosa e modal con un tessuto a costine che vuol dire che questo qui è ottimo da sotto soprattutto in questo periodo in cui i maglioncioni quelli proprio pesanti pesanti cominciano a scarseggiare perché ovviamente in produzione abbiamo già tutta quanta la collezione primaverile possiamo tranquillamente fare un effetto con due maglioncini sovrapposti e magari questo qui potrebbe essere l'ideale da mettere sotto comunque fibra naturale perché viscosa e modal sono fibre naturali da mettere sotto un pochino più pesantino con un tessuto che permette di rimanere sagomato ma non aderente assolutamente poi in questo modello in particolare mi supera tranquillamente il passante del jeans quindi io che per esempio sono un po' nonna berarda su ste cose lo riesco anche a filare dentro al pantalone e poi metterci sopra un maglioncino comunque ottima la vestibilità la manica è lunga non ha cannolè quindi veramente morbidissimo ragazze collo V disponibile in tutti quei colori che vi ho fatto vedere mi sono arrivati poi delizia delle delizie pantalone vita medio alta elasticizzatissimo disponibile a partire da una 42 fino a una 54 56 questa è la vestibilità ce l'abbiamo tutto il pantalone dritto ragazze un semi elasticizzato con una vestibilità eccezionale che però sotto non rimane stretto quindi vi piace portarlo con le scarpe da ginnastica ma non vi piace l'effetto che va a stringersi sulla caviglia noi ce l'abbiamo disponibile il modello push up guardate nella colorazione blu tutta quanta sfumata e lo stesso identico modello ce l'ho disponibile anche nella colorazione nera quindi se non vi piacciono i jeans stretti sotto abbiamo anche a disposizione questi modellini qui ottima la vestibilità ragazze veramente strepitosa di questo modello che scende giù un pochino più dritto quindi non va a stringere assolutamente sulla caviglia e poi un altro articolo che vi faccio vedere ragazze e di cui mi ne vanto oddio li amo sono i piumini corti quelli che hanno gli inserti in neoprene quindi tessuto tecnico per quanto riguarda la manica per quanto riguarda la parte del collo guardate nei dettagli che carino la parte del collo che gira tutto intorno è in neoprene per quanto riguarda la pattina aspetta che lo rigiro per quanto riguarda la pattina il tessuto è in neoprene per quanto riguarda tutta la parte del busto e del cappuccio parliamo di piumino piumino sintetico quindi lo lavate anche in lavatrice disponibile soltanto nella colorazione nera disponibile sm e l tasca a destra tasca a sinistra ragazze questo sta in promo 29 euro e 99 ottima la vestibilità vediamo che taglio ho preso una L buona la vestibilità vediamolo un po' vediamo come calza la L il peso è una 44 ragazze la L per me va bene perché se ci vado a mettere un maglioncino un pochino più pesante ci sto comodissima il cappuccio valendo si può togliere caldo impermeabile come ho detto si lava la lavatrice mi piace anche il fatto che il collo oltre ad essere alto e potersi ripiegare effetto giacca lo possiamo portare anche alto e mi va a coprire quindi mi copre il collo e non necessito neanche di una sciarpa ragazze queste cose mi fanno impazzire mi piace tantissimo e poi altro articolo che vi faccio vedere ragazze è il maglioncino che vi ho fatto vedere prima nella versione verde menta guardate che spettacolo maglioncino corto di un tessuto di un morbido allucinante ragazze misso viscose modal quello caldo che mi piace da impazzire è disponibile nella colorazione biscotto nella colorazione nera nella colorazione verde ma anche verde mela possiamo chiamarlo questo punto di verde nella colorazione ottanio nella colorazione grigia e nella colorazione rossa mi piace tantissimo anche la colorazione verde mela ve lo faccio vedere nel dettaglio me lo sono preso a una vestibilità eccezionale allora la lunghezza mi arriva a coprire il passante del jeans quindi comunque è a corto ma non troppo non mi si vede la pancia ha la manica leggermente a palloncino guardate che carino con un cannolè bello compatto che va a chiudere la parte del polsino cannolè che ritroviamo non compatto e doppio come quello della manica lo ritroviamo sul collo che rimane a vulcano quindi mi accosta mi tiene calda ma non mi strozza assolutamente eccolo qui quello del polsino e cannolè che ritroviamo anche nella parte di sotto ovviamente la parte di sotto come la parte del collo rimane abbastanza morbido il cannolè quindi ha soltanto un effetto per andare a chiudere leggermente e non mi stringe assolutamente ragazze poteste sentire quanto è soffice e caldo bellissimo e poi che dirvi che mi sono rientrate di nuovo disponibili che mi sono rientrate di nuovo disponibili le scarpe quindi i numeri per quanto riguarda il mocassino quello con i due occhielli in argento e il cararmato bello vistoso che è comodissimo disponibile dal 36 al 41 numero più numero meno perché non me lo ricordo se ho venduto qualcosa a partire da questa mattina disponibile di nuovo il tronchetto quello che nella parte superiore ha l'effetto a calzino e che quindi ha un'ottima vestibilità perché ovviamente parliamo di un tessuto elasticizzato e non di ecopelle anche di questo disponibile un po tutti i numeri disponibile di nuovo l'anfibio quello che mi ha preso veramente il cuore ragazze perché lo sto mettendo guarda che ginnica che sono lo sto mettendo un po sotto a tutto quello che ha la pochettina che volendo possiamo tranquillamente andare a togliere quindi sfruttare proprio basico quello che ha la zip laterale e che ha un cararmato molto importante che è fantastico in questo periodo perché ragazzi tra pioggia e è freddo sto isolata dal pavimento in una maniera fantastica e pazzesca ultimo articolo che vi faccio vedere ragazzi mi ero quasi dimenticata ma in realtà mi ha preso il cuore è il jeans semi elasticizzato con l'effetto graffiato chiaro con un bel po di sfumature modellino push up disponibile dalla 36 fino a una 48 ottima la vestibilità come rimane dovrebbe rimanere leggermente tra il mom jeans e l'elasticizzato cioè è un semi elasticizzato un pochino più morbidino vita medio alta me lo sono preso domani mi ci farò sicuramente una foto perché mi è piaciuto tantissimo mi piace da impazzire il tessuto così vedete pure come mi sta indosso quindi occhi aperti sulla pagina per vedere come sta indossato quel modello e fatemi sapere poi se vi piace e poi ragazzi ultima cosa che vi dico mi è tornato di nuovo disponibile perché ci è piaciuto tantissimo me lo sono preso è veramente comodo il jeans non elasticizzato l'effetto mom jeans o boyfriend jeans che dir si voglia quello che volete che se volete potete risvoltare che se non volete potete lasciare giù dritto e mettere o a vita alta quindi un pochino più modello anni 90 oppure metterlo un pochino più sceso un po' più effetto rapper a questo punto ragazze non mi rimane che ricordarvi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdere nessuno dei nostri video di seguirci sulle nostre pagine instagram facebook rgn lovers dove è possibile effettuare lo shopping online di seguirci anche sulla pagina rgn.fianno di facebook che è quella ufficiale del negozio per orari contatti e apertura e tutto ciò che concerne il punto vendita a questo punto io vado fatemi sapere se c'è qualche articolo che vi è piaciuto qualcosa che vi è piaciuto interessa io sono a vostra disposizione da manuela tutto vi ringrazio per l'attenzione al prossimo video ciao